Questo ultimo appuntamento del ciclo di webinar dedicati al piano europeo di lotta contro il cancro, Yes, we can, no cancer. Mi chiamo Carmela Basile e sono la responsabile dell'Europe Direct Molise. Ho il piacere di essere qui con voi e di moderare questo appuntamento, che è il decimo appuntamento di una serie di webinar che sono stati dedicati a promuovere e quindi a far conoscere meglio questa importante iniziativa europea che è il piano europeo di lotta contro il cancro. Noi ci siamo focalizzati negli appuntamenti precedenti e quindi anche oggi sul tumore del seno e del pollone. Il piano europeo è un'iniziativa che, come dicevo, è veramente strategica, si fonda su quattro pilastri fondamentali, tra cui la prevenzione e la riabilitazione, di cui parleremo anche oggi. Ovviamente, essendo un'iniziativa europea, si avvale di tutti i vantaggi che possono derivare dalla ricerca, dall'innovazione, dalla digitalizzazione e di fondi europei, di finanziamenti europei stanziati ad hoc. Prima però di dare avvio ai lavori di questa giornata, mi piaceva fornire una piccola suggestione sul video che abbiamo visto in apertura. Lei, la protagonista, è Capri, una ragazza di 12 anni, che si esibisce dal vivo in un recital. E la canzone che avete ascoltato l'ha composta proprio lei, perché era venuta a conoscenza di una diagnosi di tumore che ha colpito la madre. E possiamo chiaramente capire quanto questa cosa sia stata devastante. La riflessione che ci viene, a cui magari forse a volte non poniamo molta attenzione, è che la diagnosi di tumore, qualunque questa sia, comunque costituisce uno tsunami, non solo per la persona che riceve questa diagnosi, ma per tutto il contesto familiare o comunque sociale allargato. L'obiettivo del Piano Europeo di lotta contro il cancro, ritornando all'argomento del nostro webinar, è quello di fornire una modalità che possa riguardare tutti gli Stati membri e che possa tutelare efficacemente la salute dei nostri cittadini, di noi cittadini europei, e di renderla quindi più sicura e più resiliente. I webinar che si concludono con l'appuntamento odierno si sono configurati essenzialmente per aver avuto un carattere formativo e informativo. Ci hanno fatto conoscere meglio questa malattia, ci siamo soffermati sulla prevenzione e oggi ci dedicheremo alla riabilitazione. Mi faceva davvero piacere salutare gli altri Europe Direct organizzatori, insieme alla sottoscritta, e quindi lo Europe Direct di Chieti presso l'Università di Chieti, lo Europe Direct di Nuoro presso il Comune di Nuoro, lo Europe Direct di Verona presso la provincia di Verona, lo Europe Direct Roma Innovazione presso il Formez, lo Europe Direct di Siena presso l'Università di Siena, lo Europe Direct di Trapani Sicilia presso il Consorzio Universitario della provincia di Trapani, lo Europe Direct di Venezia Veneto presso il Comune di Venezia, lo Europe Direct della Regione Emilia Romagna, Assemblea Legislativa presso la Regione Emilia Romagna, noi di Europe Direct Molise presso la provincia di Campobasso, e lo Europe Direct Lombardia presso la Regione Lombardia. Ovviamente non possiamo e non vogliamo dimenticare i partner associati che si sono adoperati per diffondere, e devo dire, le ingresso davvero tanto in maniera molto efficace, le informazioni relative a questo webinar, e adesso li cito ad uno ad uno. Assessorato alle politiche sociali, terza età e invecchiamento attivo, sanità, politiche abitative, diritti LGBTQ+, Municipio Ottavo Roma Capitale, Associazione AMBI Donne per la Salute, Sezioni di Trapani, Associazione 7 più 1, Ottavo Colle, Centro di Documentazione Europea, Agenzia per la Coesione Territoriale, Diana Ollus, Associazione di Diritti Non Autosufficienti, Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, che è protagonista della giornata di oggi, Inner Wheel Italia, Sezioni di Trapani, Club Service Femminile, Ordinia degli Ostetici di Palermo, la Regione Lazio, Direzione e Programmazione Economica Ufficio Europa, la Rete Civica della Salute, Soggetto Civico del Servizio Sanitario Regionale, e chiudiamo con la Regione Sicilia, Dipartimento della Programmazione, Preciso che la strategia di comunicazione del Piano Operativo FESL della Sicilia, relativa al periodo di programmazione 2014-2020, ha supportato l'iniziativa dello Europe Direct Tratani Sicilia e degli altri Europe Direct convolti in questo ciclo di webinar. Un ulteriore sentito ringraziamento dai partner associati che hanno deciso di conferire dei crediti e quindi parliamo di Istituto di Istituzione Superiore Leonardo Da Vinci di Trapani, che ha riconosciuto il Corregolo dell'Istituto per l'Educazione Civica, riferimento obiettivo 3, Agenda 2030, macro area, salute e benessere, e chiudiamo con l'Università degli Studi di Palermo, corso di laurea in infermeristica, sede di Palermo, Trapani, Agrigione e Caltanessetta. L'Università ha riconosciuto al ciclo di webinar CFU per le altre attività formative tipologia F e qui vediamo in basso il riepilogo di CFU riconosciuto. Come potete vedere, questo è il calendario completo di tutti gli appuntamenti che si sono avvicendati fino a quello odierno. Siamo partiti con il 5 di ottobre 2023, il mitico webinar 1 dedicato proprio al Piano Europeo di lotta contro il cancro. C'è stata poi una successione di webinar che hanno affrontato la tematica principale come potete vedere secondo tanti tanti approcci e tanti punti di vista e chiudiamo oggi con il webinar 10. Oggi, il 18 gennaio 2024, il webinar 10 dedicato alla ricostruzione della mammella dopo la malattia. Chiaramente i progressi della medicina e i progressi della ricerca hanno fatto in modo che le diagnosi di cancro possano avere delle risposte e delle soluzioni decisamente più fauste rispetto al passato. Ma a volte si rende necessario operare delle mastectomie la riabilitazione successiva alla mastectomia è riconosciuta al Servizio Sanitario Nazionale ed è finanziata e come tutti potete immaginare è una operazione fondamentale per restituire alla donna la propria autostima e anche e soprattutto per limire e direi quasi annullare i svantaggi derivanti dal dolore fisico e chiaramente dal disagio psicologico che una mastectomia può provocare. Riepilogo gli interventi di oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professore ordinario di chirurgia Vittorio Altomare direttore della Brassi Unit del Policlinico Universitario Campus Biomedico che ci parlerà della chirurgia oncoplastica conservativa il dottor Pasquale Verolino dirigente medico Università degli Studi della Campania Luigi Vanditelli e chiude in rosa la nostra cara collega dottoressa Claudia Salvi responsabile dello Europe Direct Roma Innovazione del Formez che ci presenterà la manifestazione dice in rosa e ora direi di passare la la parola al professore Vittorio Altomare e volevo dire due parole in merito al all'Adressi Unit che il professore dirige rappresenta una realtà di eccellenza di tutto rispetto di opera un team multidisciplinare che segue i più alti standard europei per appunto contrastare il tumore e molto diciamo spinto anche sulla ricerca scientifica e promuove ogni anno la pedalata vicinrosa ho solo dimenticato di dire che alla chiusura degli interventi dei relatori apriremo la sezione domande e risposte stante l'alto numero di persone collegate magari non c'è la possibilità di interloquire direttamente con le persone mediante il video con le persone collegate per cui vi preghiamo davvero di sporre le vostre domande all'interno della chat sarà mia cura porle poi ai nostri relatori e per cui a questo punto senza indugio io passerei la parola al professore Vittorio Artomare professore buongiorno e benvenuto tra noi grazie buongiorno a tutti e naturalmente io faccio i complimenti alle organizzatrici di questo evento in particolare ringrazio l'amica Claudia Salvi che mi ha voluto coinvolgere direttamente ci conosciamo da molti anni ma i complimenti vanno a tutte perché veramente ho seguito anche qualche altro webinar ed è estremamente importante il lavoro che state facendo di divulgazione e promozione della prevenzione in generale dei tumori e soprattutto anche un po' di queste realtà delle breast unit mi riferisco al tumore della mammella di cui mi occupo come ha già detto la nostra brava moderatrice l'argomento che mi è stato affidato mi sta particolarmente a cuore chiaramente essendo io un chirurgo e occupandomi ormai da molti anni di questa chirurgia che sembra una chirurgia banale ma non lo è affatto perché riguarda appunto questa popolazione di donne molto numerosa perché l'incidenza lo sappiamo bene è molto alta ma soprattutto per fortuna riguarda la popolazione di donne di cui molte guariscono tantissime guariscono e quindi quando poi si sta bene si guarisce la donna vuole avere anche un risultato estetico di questa parte del corpo della donna importantissima anche sufficientemente accettabile e valido perché non si possa sentire deturpata ecco perché l'argomento di oggi che riguarda proprio questo aspetto cioè come ricostruire la mammella quando si fanno gli interventi per tumore sia in termini di chirurgia conservativa quindi senza bisogno di portare via tutto il seno sia in termini di chirurgia ablativa completa come la mastettomia e di cui parlerà dopo il collega Verolino che mi seguirà la parte della chirurgia conservativa parte da lontano nel senso che è chiaro che molti anni fa l'unico intervento possibile era quello definito anche sui testi scientifici amputazione della mammella e già questo termine di per sé descrive cosa vuol dire dover per forza asportare tutto il seno perché è un po' come l'amputazione d'arto altri interventi in cui c'è questa parola amputazione che determinano un grave scompenso psicologico sappiamo tutti che il paziente che ha un'amputazione d'arto ha una serie di reliquati psicologici importanti per esempio tutte le mattine si alza e cade perché cerca di poggiare quell'arto che non ha più la stessa cosa vale per chi viene sottoposta ad asportazione della mammella ecco perché la si definiva amputazione della mammella quindi molto importante questo aspetto della chirurgia conservativa una rapida carrellata per raccontarvi questo è un mio interesse all'atere della chirurgia che è quello di andare a scoprire le opere d'arte in cui sono rappresentate queste diciamo figure con una segni reali di tumore della mammella che all'epoca naturalmente forse erano ancora sconosciuti e in particolare in queste due opere d'arte un dipinto che riproduce quest'opera di Michelangelo Buonarroti dove si vede questa retrazione della iandola mammaria che è ben visibile a tutti che evidentemente nascondeva un tumore della mammella così come pure in molte opere d'arti di Rubens c'è una modella e sembra che sia la modella che poi era l'amante di Rubens che di fatto è morta poi di tumore della mammella e in particolare vedendole bene da vicino in alcune di queste si notano queste deturpazioni del seno dovute al tumore della mammella dico questo per dire che è chiaro che è sempre stato importante per il chirurgo che tratta questa patologia cercare di arrivare ad una soluzione che sia almeno possibile deturpante per la donna Veronesi credo che lo conoscano tutto il mondo ma in Italia lo conosciamo molto bene e con questo suo sorriso ha sempre accolto tutte le donne cercando di aiutarle a capire che non solo si riesce a guarire dal tumore al seno ma si può anche stare bene se vengono seguiti i protocolli e i trattamenti opportuni ha inventato la chirurgia conservativa della mammella negli anni 80 e l'ha promossa e portata avanti con grande tenacia dimostrando che appunto a sportare tutta la mammella o una parte di essa con la chirurgia conservativa la sopravvivenza è uguale e gli studi hanno poi continuato a confermare questa sua affermazione anche a distanza di 20 anni quindi controllando queste pazienti a 20 anni dall'intervento chirurgico quindi ecco ormai è consolidato in tutto il mondo che la chirurgia conservativa ha l'uguale sopravvivenza della mastettomia allora le donne giustamente si chiederanno ma allora perché si continua a fare la mastettomia beh in alcuni casi è necessario a sportare tutta la mammella io dico da questi studi come questa meta analisi che raccoglie una popolazione molto importante oltre 2 milioni di casi è evidente che la percentuale ancora di chirurgia conservativa a mio parere è bassa nei centri diciamo un po' più attenti allo studio come queste appunto le breast unit dove tutti noi lavoriamo si riesce ad arrivare anche ad una percentuale più alta del 57,5% si arriva fino al 60-70% è chiaro che in questa popolazione così numerosa e variabile queste percentuali sono minori ma l'obiettivo è quello di ridurre sempre di più la necessità di ricorrere alla mastettomia perché qual è l'obiettivo ormai in tutti i trattamenti sia essi chirurgici quanto sistemici del tumore della mammella c'è una progressiva descalation cioè si va piano piano abbandonando quelle che erano i trattamenti aggressivi in particolare i trattamenti chirurgici sui linfonodi ascellari che una volta determinavano il braccio compio tutta una serie di esiti adesso c'è la tecnica del linfonodo sentinella che ha ridotto di molto questa aggressività chirurgica così come la possibilità di ricostruire il seno anche con l'utilizzo del grasso addominale e quindi facendo un po' delle ricostruzioni meno impegnative per la donna e così come anche la strada ormai percorsa da anni della terapia neadiuvante che ci permette di ridurre le lesioni molto più grandi molto grandi che quindi impongono la mastettomia e portarle ad una dimensione tale per cui si può accedere ad una chirurgia conservativa e quindi anche la chirurgia della mammella conservativa quindi quella che era la classica quadrantettomia descritta negli anni 80 da veronesi e altri autori internazionali si va man mano riducendo sempre più su una chirurgia limitata alla parte di malattia quindi la tumoretomia o l'asportazione della lesione con un margine di resezione come vedete in queste immagini qui sufficiente per garantirne la guarigione poi è chiaro che la chirurgia conservativa va accompagnata alla radioterapia per sterilizzare la restante iandola mammaria ora questa chirurgia conservativa che negli anni è stata sempre più implementata però ha dei punti deboli che di per sé da un punto di vista non oncologico di guarigione perché quella è garantita l'abbiamo vista ma come risultato finale estetico soprattutto in particolare alcuni quadranti della iandola mammaria alcune aree dove si presenta la malattia sono di difficile soluzione da un punto di vista di tecnica di chirurgia conservativa vedete qui non è colpa tanto dei chirurghi perché se sono chirurghi esperti e dedicati però qui gli esiti sono sicuramente non buoni e come dicevo prima la donna che poi per fortuna sopravvive vedersi deturpata in questo modo tutte le mattine davanti allo specchio sicuramente non è gradevole ecco perché il chirurgo senologo oncologo ha dovuto mutuare copiare dalla chirurgia estetica una serie di tecniche chirurgiche che vedete riassunte in questo schema qui che hanno permesso hanno fatto in modo che anche nelle sedi più difficili di localizzazione del tumore si possa ricomporre la iandola mammaria in maniera opportuna per poter dare un ottimo risultato estetico ho portato alcuni dei lavori scientifici che avvallano questo ma giusto per dire che ci sono diverse tecniche di chirurgia oncoplastica appunto chiamata così perché coniuga l'aspetto oncologico di trattamento del tumore a quello plastico di ricomposizione della iandola in particolare queste due tecniche di volume displacement e di volume replacement sono le due più avanzate più importanti quelle più in mano a chirurghi oncologi esperti che riescono a ridare alla donna un aspetto della propria iandola mammaria devo dirvi e confidarvi a volte anche migliore di quello che aveva la paziente prima e vedremo alcuni casi qui sono rappresentate su schemi poi mi permetterò di lanciare rapidamente qualche immagine anche dal vivo delle nostre pazienti ma che permettono appunto di fare la chirurgia di asportazione della malattia che vedete rappresentata in alcune di queste sedi particolari e difficili come i quadranti inferiori oppure come la dislocazione del complesso areolo capezzolo che viene retratto verso un lato e quindi rende e allora utilizzando queste tecniche si riesce ad evitare questo tipo di deformità della iandola mammaria queste sono tutte tecniche di volume displacement cioè cercare di utilizzare lo stesso volume mammario che spostandolo da una seda dall'altra va a compensare il buco diciamo il vuoto che si era creato con l'asportazione del tumore questo per esempio è un caso molto interessante perché questi tre pallini che vedete in blu erano la sede di tre focalità di tumore diverse piccole ma diverse come sede quindi in altri casi in altre realtà forse dove c'è qualcuno che non ha un'esperienza una competenza sufficiente questa signora era per forza da sottoporre ad una mastettomia mentre invece noi considerando appunto il volume del seno le abbiamo proposto e l'abbiamo sottoposta ad una chirurgia conservativa vi ho saltato la tecnica intraoperatoria che può essere fastidiosa per una detta ai lavori e vedete che tre mesi dopo nonostante abbia fatto la radioterapia il seno malato ha una forma come vi dicevo forse migliore del seno sano tant'è che spesso noi proponiamo alla paziente la rimodellamento del lato controlaterale vedete che questo è un anno dopo il risultato per questa paziente ecco perché dico che oltre a dare la guarigione che è fondamentale ed è prioritaria poi si riesce anche ad ottenere magari un risultato di tipo estetico migliore di prima che fa piacere alla signora che magari ha un seno voluminoso grande che determina anche una difficoltà sulla colonna vertebrale della signora stesso caso questa paziente di 59 anni con un tumore in situ il tumore in situ è quello meno aggressivo è stata fatta una diagnosi precoce però questa signora aveva la particolarità che il tumore era localizzato in questa sede qui cioè dietro l'areola dietro il complesso areola capezzolo quindi eravamo costretti a togliere il capezzolo per cui restava un seno un po' deformato senza il capezzolo e con tutta la parte della iandola ridotta anche qui abbiamo utilizzato una tecnica di mammoplastica che in questo caso perché la signora lo ha voluto e noi l'abbiamo ritenuto opportuno abbiamo utilizzato in maniera bilaterale cioè abbiamo ridotto anche il seno controlaterale che non aveva una necessità oncologica ma sicuramente una necessità clinica perché era un seno ptosico grande comunque fastidioso per la signora vedete bene quindi il dato di partenza dopo quattro mesi e poi dopo un anno quando abbiamo anche eseguito la ricostruzione del capezzolo con tatuaggio con quello che è più opportuno nel caso e così via quest'altra paziente qui è di 43 anni quindi più giovane invece aveva un tumore ed è in questo che l'oncoplastica è importante che intervenga aveva un tumore di 5 cm quindi molto grande se voi date un'occhiata qui alla risonanza spero che vedete la freccia che le indica le immagini vedete che questa zona bianca era tutta la componente di tumore quindi metà della mammella era coinvolta dal tumore ora questa signora qui ha fatto il trattamento neoadjuvante si è ridotta la malattia come vedete in quest'altra risonanza magnetica tantissimo a volte addirittura quando si fa la neoadjuvante sparisce la malattia per cui in questo caso abbiamo potuto sottoporre la paziente mentre qui andava fatta una mastettomia sicuro qui siamo tornati alla possibilità di eseguire una chirurgia conservativa ed è anche in questo caso che abbiamo proposto una chirurgia di questo tipo oncoplastico cioè come vedete mutuando le tecniche che usano i chirurghi plastici per fare le pezzi quando c'è una necessità di ridurre un seno come in questo caso che è comunque un seno importante un mese dopo e sei mesi dopo l'intervento e non ricordo mi pare che questa paziente a questo punto non abbia più voluto simmetrizzare quella controlaterale perché evidentemente si sentiva a suo agio detto questo e vi tralascio tutte le tecniche di chirurgia ma è evidente che lo studio delle strutture vascolari di competenza della iandola mammaria e dell'ascella ci permettono poi di fare questo secondo tipo di chirurgia conservativa oncoplastica che è quella che riguarda il volume replacement cioè le tecniche di ripiazzamento di tessuto non mammario al di fuori o vicino alla iandola mammaria e molto spesso in questi casi diciamo facciamo buon uso di quelli che sono le pazienti con un pochettino di lembi della parete toracica un po' grassocelli un po' con contenuto adiposo perché sono appunto lembi della parete toracica vicino alla mammella e che con quelli noi peduncolizzandoli riusciamo a a compensare il vuoto che abbiamo creato nella mammella la tecnica di studio è con doppler vascolare perché dobbiamo lasciare a queste iandole la struttura vascolare a questo tessuto che andiamo a utilizzare la struttura vascolare ma immagino che sia di pochi interessi per un pubblico non addetto ai lavori e queste sono le pubblicazioni scientifiche ormai anche se riguardano gli ultimi anni vedete 20-22 queste sono tecniche molto nuove e molto recenti in questo caso un autore inglese che io conosco molto bene un chirurgo Peter Berry addirittura in due casi è riuscito ad utilizzare questo tessuto laterale della mammella dermoadiposo per fare una completa sostituzione della iandola mammaria quindi anche nella mastettomia anziché usare la protesi che può avere dei suoi limiti ha usato un lembo dermoadiposo adiacente e quindi come vedete anche qui a parte le immagini brutte della chirurgia noi abbiamo un tumore in questa sede andiamo a prelevare questo puntino che vedete non è il tumore ma è il peduncolo vascolare utilizziamo questo lembo che va a coprire a compensare il vuoto che si era creato per cui ecco in questo caso il lato operato che è questo sinistro non viene diciamo reso più piccolo o comunque diverso dal lato destro per cui la signora non ha bisogno neanche di eseguire un rimodellamento controlaterale e come vedete sei mesi dopo e quattro mesi alla fine della radioterapia la paziente ha un seno che ne ha guadagnato anche in termini di risultato estetico altro caso una donna con sei centimetri 65 millimetri di un tumore sempre in situ quindi per fortuna l'insito è questo tumore ripeto molto precoce come diagnosi ma spesso si presenta con delle focalità diffuse quindi in questo caso occupava come vedete un'ampia parte della mammella e come si capisce da questo disegno preliminare noi andiamo a prelevare questo tessuto qui sotto che è un tessuto dermoadiposo che quando non è molto magra la paziente ha una sua consistenza e un suo volume tale da riuscire a coprire questo vuoto che si era determinato in questo caso in questa donna il risultato finale come vedete è questo nell'immediato post-operatorio ma sei mesi dopo e due mesi dopo la radioterapia come vedete la signora riesce a coprire bene l'incisione che è sotto l'ascella e non ha nessun segno esterno di sebbene abbiamo come vi dicevo portato via una ampia parte della iandola mammaria altra situazione molto simile in questo caso però la donna aveva il tumore localizzato dietro l'areola e il capezzo lo ripeto anni fa in mani anche meno esperte poco esperte questo tipo di tumore comportava sicuramente la mastettomia con l'utilizzo vedete che la signora ne ha in abbondanza di grassetto laterale questo lembo qui siamo riusciti a ricomporre non solo il vuoto della iandola ma anche questa neoareola che quattro mesi dopo il trattamento anche di radioterapia è risultata assolutamente idonea e poi qui magari si è fatto dopo un tatuaggio per ricostruire il capezzolo vero e proprio quindi è evidente che l'acquisizione di queste tecniche di oncoplastica permette di salvare la vita sempre delle donne uguale alla mastettomia ma di salvare anche la mammella in molti casi in cui invece in altri tempi si sarebbe stati costretti ad asportarla tutta naturalmente tutto questo va fatto nei centri con opportune esperienze e competenze ecco perché le breast unit hanno questa triade di caratteristiche che gli permettono di fare anche interventi di un certo livello quindi puntare alla qualità controllata quindi verificata puntare ai numeri alti perché è chiaro che più interventi fai di questo tipo più diventi bravo ed esperto e poi la decisione sempre come sempre in queste breast unit va presa in concordanza con tutti gli altri specialisti quindi la multidisciplinarietà e questo dato scientifico ormai acclarato da anni parliamo del 2012 si è dimostrato che quando le donne con tumore al seno vengono trattate in questi centri specialistici le breast unit dove c'è il confronto multidisciplinare c'è un 18% di guarigione in più quindi non è poco su una popolazione come le donne che si ammalano di tumore al seno che il 20% in più guarisce se si rivolge ai centri dedicati e questo è un appello che ormai stiamo facendo da anni in tutta Italia questo è il gruppo che compone la mia breast unit non sono tutti chirurghi quindi chirurghi ce ne siamo mi pare tre o quattro il resto c'è il radiologo c'è il chirurgo plastico c'è l'oncologo c'è l'anatomopatologo c'è il genetista ci sono tutti c'è la psicologa questa è la psiconcologa quindi come vedete ed è questo che dà il valore aggiunto che permette alle donne di raggiungere quella guarigione ancora mancano tanti passi mi permetto di accennare questo dato per lanciare un messaggio anche alle autorità pubbliche coinvolte in questo webinar ancora sono poco conosciute secondo me le breast unit ancora ci sono donne in giro che chiedono ma se io mi ammana dove devo andare oppure è difficile accedere agli esami di prevenzione oppure ci sono tempi di attesa lunghi soprattutto per la diagnostica e purtroppo devo dire sul territorio nazionale ci sono differenze da regione a regione i rimborsi sono inadeguati questo lo diciamo in tutta Italia in tutti i modi perché un intervento di quelli così complessi come vi ho fatto vedere che dura a volte anche due ore tre ore costa molto di più di un semplice intervento e così via gli altri aspetti naturalmente io come organizzatore di questo evento vi invito tutti il 7 aprile ma so che poi Claudia Salvi vi racconterà molto meglio che cos'è questa iniziativa e quanto è bello fare questa passeggiata in bicicletta a Roma grazie a tutti grazie grazie davvero professore per l'ampia panoramica della casistica che ci ha che ci ha portato quest'oggi grazie per l'attenzione che ponete quotidianamente a a salvare la vita delle donne e anche a ridurre i danni che un tumore può provocare nelle mammelle delle nonne in questo caso stiamo parlando di tumore al seno stavo pensando che purtroppo le donne di Rubens non hanno potuto usufruire di quello che oggi i vantaggi della chirurgia moderna possono offrire per salvare la vita la vita delle donne e mi chiedevo professore quante persone più o meno accedono se può dirlo alla sua breast unit e la seconda domanda che volevo porle è se una persona che non è del Lazio può accedere alla breast unit assolutamente sì alla sua breast unit certo certo ma io invito le donne ad andare nelle breast unit delle proprie regioni perché quando c'è una breast unit c'è la garanzia che tutti gli operatori di quell'unità vengono sottoposti a controlli di qualità quindi la breast unit io sono calabrese quindi immaginatevi quanto vivo questo dramma della mia regione che ha più difficoltà la breast unit in calabria quando cede è stata istituita viene sottoposta a controlli di qualità come la breast unit di Roma e la breast unit della Lombardia quindi la qualità c'è anche lì per cui io invito a questo poi è evidente che le donne sono anche libere come è stato per anni che andavano a Milano perché Veronesi era il riferimento nazionale assoluto ma ormai l'istituzione dal 2016 delle breast unit ha permesso devo dire di omogeneizzare abbastanza il territorio nazionale quindi non invito le donne a spostarsi dalla propria regione però se vogliono noi siamo la donna è libera in tutta Italia di andare a curarsi dove vuole e quando vuole col servizio sanitario nazionale ma questa è una norma costituzionale non è una legge né nostra né delle breast unit la cosa che volevo invece sottolineare per esempio è un'iniziativa che io ho aperto alla breast unit della Policlinico Campus Biomedico di Roma che è un policlinico pubblico sebbene ha l'università collegata quindi si occupa è un'istituzione privata ma convenzionata io ho aperto un ambulatorio cosiddetto open che permette alle donne mi lasci due secondi per dare questo messaggio perché vorrei che lo aprissero tutte le breast unit d'Italia la donna che ha un sospetto di tumore al seno quindi deve avere un motivo chiaro indicato dal medico curante dal radiologo dal ginecologo si può recare direttamente nei giorni stabiliti noi purtroppo riusciamo a farlo per adesso solo un giorno a settimana il lunedì e qualche volta il giovedì nel nostro ambulatorio di breast unit senza prenotazione perché guardate la difficoltà più grossa per la donna quando deve affrontare il problema a tempi stretti è trovare un centralino che l'accolga che risponda e che gli dia un appuntamento presto lo sappiamo bene e allora lì può venire da noi il lunedì mattina con la richiesta del medico di visita chirurgia senologica urgente noi l'accogliamo in un team multidisciplinare dove c'è il chirurgo il radiologo e se serve l'oncologo e in giornata possiamo eseguire mammografia ecografia e la cosiddetta core biops che fa la biopsia per fare la diagnosi per cui noi ne accogliamo in genere 10 a mattinata perché purtroppo i limiti del personale sanitario e nonno non ci permettono di fare di più però su 10 donne generalmente 3 magari hanno una vera lesione sospetta le altre 6 7 se ne vanno a casa con la certezza in giornata che non hanno nulla ecco questo ambulatorio open io l'ho aperto ormai da 10 anni funziona molto bene arrivano le donne spaventatissime per fortuna una buona percentuale va a casa serena l'altra viene presa in carico dalla breast unit non so se ho risposto a tutte le sue domande sì 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 assolutamente sì c'è una domanda che è stata posta sì il numero noi siamo una delle breast unit diciamo che la convenzione europea richiede che per poter essere una breast unit bisogna avere intorno ai 150 nuovi casi di tumori all'anno a mio parere non è il numero quello che conta ma è la qualità della prestazione noi siamo già intorno ai 400 450 nuovi casi all'anno ma perché tutta la struttura ospedaliera ha dei posti limitati comunque ma già è una struttura di medio alto livello con 450 nuovi casi all'anno mi dica no volevo chiederle un'altra cosa ma c'è stato secondo lei questa è una mia domanda c'è stato secondo lei nel corso degli ultimi anni un aumento del tumore al seno guardi i dati i dati non sono i dati non sono per un aumento in termini numerici dei nuovi casi di tumore al seno ci sono purtroppo due aspetti uno legato alla pandemia che conosciamo bene tutti c'è stato un ritardo nella diagnosi cioè mentre noi fino al 2020 eravamo riusciti perché ormai le donne io questo lo dico sempre non c'è più bisogno di spingere che le donne facciano prevenzione sono sempre più rari i casi di donne che si nascondono il tumore e non vanno a farsi controllare o di donne che non fanno periodicamente la mammografia e l'ecografia purtroppo il covid e la chiusura di questi due anni e mezzo tre ha veramente impedito alle donne di accedere alla prevenzione e quindi questo ha portato ad un ritardo nella diagnosi questo è un dato accertato aumento in termini numerici no c'è un dato di aumento nella fascia di età di sotto nelle donne più giovani quindi sotto i 40 anni ma che è legato prevalentemente a una migliore qualità delle nostre diagnostiche e quindi ad una diagnosi più precoce cioè noi scopriamo tumori al seno in donne giovani dove peraltro è molto più difficile perché il seno è denso prima di quanto si potevano scoprire anni fa quindi nelle donne giovani c'è un aumento di incidenza ma mi raccomando attente perché molte volte si dice fino a 40 anni non fare nulla no le donne giovani devono comunque rivolgersi e io dico sempre allo specialista chirurgo che si occupa di tumore della mammella o all'oncologo per carità non è solo il chirurgo questo perché perché cambia da donna a donna anche a 25 anni vediamo tumori a 28 anni perché perché ci può essere un dato di mutazione genetica perché ci può essere una familiarità importante quindi dire a quella ragazza di 20 anni no non fare niente o fai un'ecografia se ti capita non è del tutto corretto e ripeto è un po' questa la strada da rettificare un po' di più in questo periodo quindi l'invito è fare prevenzione anche se si è giovani perché è importante individuare eventuali forme tumorali a qualsiasi età e nel caso in cui ci siano problemi rivolgersi alla breast unit del proprio territorio nell'ipotesi e che io immagino che ci siano delle regioni che ne siano ancora sprovviste o non lo so insomma nell'ipotesi in cui non ci sia nella tua regione rivolgersi a quelle eventualmente limitrofe insomma attesa che ci si può spostare con libertà ecco assolutamente sì non so se ci sono domande dei partecipanti qualcuno ha detto stavo verificando le domande lei ha già risposto la domanda che era stata appunto tra quelle poste era quante sono le breast unit in Italia dovrebbe essere una per ogni regione no 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 ce ne sono per esempio il totale italiano adesso in Italia mi sfugge vi posso dire che nella regione Lazio sono 14 di cui 11 no non ce n'è una sola non è ma dipende dalla popolazione della regione e andrebbero una percentuale come dicevo prima in maniera tale che ogni centro abbia almeno io dico il il minimo sindacale come si suol dire è 150 ma per essere una vera breast unit che funziona bene bisogna arrivare almeno a 500 nuovi tumori all'anno quindi se in ogni regione c'è un'incidenza annuale di 3000 casi di tumori all'anno 3000 diviso 500 e so quello è il numero di breast unit che servono ci sono in tutte le regioni che io sappia ci sono in tutte le regioni che io sappia anche ripeto nella mia regione di origine sono attive negli ospedali adesso io non so quante ce ne siano in Calabria ma sicuramente ci sono ormai operative in tutti gli ospedali in tutta Italia perfetto così tranquillizziamo anche le persone e tranquillizziamo le donne nel senso che c'è modo di raggiungere questo servizio dovunque e come diceva lei prima c'è tipo una specie di protocollo per cui le breast unit si dovrebbero comportare più o meno tutto secondo gli stessi standard di qualità dei servizi offerti assolutamente sì diciamo le breast unit devono lavorare obbligatoriamente su due pilastri che sono i PDTA cioè sono i protocolli di trattamento della malattia questi ormai vengono applicati in tutti i casi in tutte le malattie nelle malattie oncologiche quindi nella mia struttura c'è un PDTA per il tumore del polmono un PDTA per il tumore del pancreas un PDTA per il tumore della mammella che quindi è il percorso che qualunque specialista valuta la paziente è il percorso che lo specialista è tenuto ad attivare e a seguire quindi facendo questo quel percorso è un percorso sicuramente garantito non si lascia più all'iniziativa del singolo chirurgo o radiologo o oncologo di fare una strada diversa e poi l'altro aspetto importante che è quello delle breast unit della multidisciplinarità che ogni settimana ci deve essere un meeting multidisciplinare in cui tutti gli specialisti si riuniscono e discutono ogni singolo caso di tumore della mammella ogni singolo nuovo caso perché lì si decide qual è il percorso più corretto per la donna capito quindi con questi due pilastri la breast unit se funzionano questi due pilastri che devono funzionare non può diciamo fare un percorso anomalo o al di fuori delle linee guida internazionali poi è chiaro permettetemi di aggiungere è chiaro che ci sono delle difficoltà logistiche ci sono strutture purtroppo dove non è un problema del singolo specialista che sarà il più bravo d'Italia ma purtroppo è la logistica della struttura che a volte per difficoltà di vario tipo gestionali economiche come sempre non riesce a dare i servizi alla breast unit per poter effettuare seguire questi percorsi di qualità di eccellenza capito perfetto professore grazie davvero prego grazie davvero per il suo intervento io a questo punto vorrei passare la parola al dottor Pasquale Verolino che è ovviamente collegato con noi ecco la sua presentazione il dottore c'è il dottor Pasquale Verolino è dirigente medico dell'università degli studi della campagna Luigi Van Vitelli autore di numerose pubblicazioni ed è socio ordinario della SICPRE società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica ed è scritto la GMC General Medical Council di Londra professore ho preso queste informazioni sul web mi correga se non sono giuste il suo intervento è sulla ricostruzione nelle mastectomie professore prego a lei la parola non la sentiamo deve attivare il microfono in alto accanto alla scritta Europe Direct Rome Innovazione ci siamo in attesa del collegamento con il dottor Verolino e direi di modificare la scaletta così in corsa e di passare molto molto volentieri la parola alla cara collega Claudia Salvi che ci presenterà alla manifestazione Bici in Rosa una manifestazione promossa dalla Brest Unit del professore Altomare che si ripete da qualche anno Claudia a te la parola raccontaci di questa manifestazione grazie Carmela tra l'altro volevo anche ringraziare i relatori di oggi ma anche tutti i relatori che hanno partecipato a questo ciclo di webinar che è stato a mio avviso veramente molto interessante e abbiamo trattato gli aspetti della malattia da vari punti di vista noi come Europe Direct Roma Innovazione da anni partecipiamo come partner alla manifestazione appunto organizzata da professore Altomare Bici in Rosa Bici in Rosa ha come obiettivo quello di far conoscere appunto le Brest Unit sia quelle sul territorio laziale ma a livello nazionale e anche un po' di sensibilizzare a questa cultura della prevenzione in più quest'anno che normalmente la manifestazione si tiene tra settembre e ottobre ma quest'anno in via eccezionale si terrà il 7 aprile di domenica più o meno la partenza è sempre verso le ore 10 e quest'anno partiremo da Largo Cavalieri di Colombo inoltre la manifestazione servirà a mettere in pratica ciò che abbiamo appreso durante questo ciclo di webinar e quindi abbiamo capito che lo sport è importante che bisogna muoversi e quindi quale migliore occasione il 7 aprile per prendere la bicicletta e partecipare alla manifestazione una manifestazione molto suggestiva perché si attraversa il centro di Roma in bicicletta e per la prima volta senza le macchine tra l'altro un po' rispettando tutti quelli che sono i parametri di sicurezza perché a questa manifestazione in genere partecipano anche le mamme con i bambini e quindi chiaramente è un percorso che viene fatto in totale sicurezza lo slogan della manifestazione è nessuno perde tutti vincono anche se sappiamo che non è sempre così ma vuole essere anche questo un messaggio di speranza un messaggio a non mollare e comunque a continuare a svolgere anche la propria vita normale facendo dello sport cercando anche di mangiare in maniera salutare e comunque di continuare quello che è il proprio percorso di vita in più altro obiettivo della manifestazione è quello di sostenere la ricerca contro il tumore al seno cercando di promuovere allo stesso tempo degli stili di vita corretti ma non finisce qui come sapete dopo questo ciclo di webinar dedicato al piano europeo di lotta contro il cancro il 15 febbraio noi partiamo con le lezioni di Europa la prima lezione di Europa che si tiene il 15 febbraio alle ore 10 sarà dedicata nuovamente a una fonte di finanziamento europea che è il programma Horizon Europe in particolare dedicheremo l'attenzione alla mission cancer e quindi a quei finanziamenti nell'ambito di questo grande strumento finanziario che vengono poi diciamo destinati alla ricerca sul cancro ma anche alle nuove terapie quindi avremo la parte iniziale delle lezioni di Europa che saranno dedicate ai finanziamenti europei in particolare appunto come vi dicevo al programma Horizon Europe ma avremo anche una sezione che sarà dedicata come si presenta una proposta di progetto per farsi finanziare un progetto europeo e in più poi avremo anche la presentazione del programma SEV che è il programma cittadinanza uguaglianza diritti e valori poi le elezioni di Europa prevedono un secondo modulo che sarà dedicato ai recenti conflitti quindi da una parte parleremo di questi conflitti internazionali recenti ma da un'altra parte tratteremo anche della Brexit a che punto siamo con la Brexit in quale situazione si trova il Treni Unito dopo la sua uscita dall'Unione Europea ma parleremo anche di allargamento perché se da un lato ci sono paesi che vogliono uscire e dall'altra parte ci sono sempre più paesi che chiedono di far parte dell'Unione Europea perché appunto lo vedono come uno spazio di pace e di progresso e in più avremo poi altri due moduli uno dedicato al Green Deal all'intelligenza artificiale e anche alle loro concrete applicazioni in un ultimo modulo invece sarà dedicato alle elezioni europee perché vi ricordiamo che quest'anno abbiamo questo importante appuntamento si teme un po' che ci possano essere ancora una volta un calo nella partecipazione alle elezioni europee e quindi attraverso un webinar vorremmo cercare di capire perché è importante andare a votare e come funziona in concreto il Parlamento Europeo quindi vi dicevo cominciamo il 15 febbraio con il programma Horizon Missione Cancro questo webinar lo terremo sarà sempre organizzato dagli Europe Direct aderenti all'iniziativa che sono più o meno gli stessi che stanno partecipando al ciclo sul cancro però avremo anche il punto di contatto nazionale di questa linea di questo strumento finanziario che è appunto il programma Horizon Europe le iscrizioni dovrete seguire la stessa procedura che avete seguito fino ad ora quindi andare sulla pagina eventipa.formez.it e seguire la procedura per l'iscrizione al webinar dovete come sempre iscrivervi ad ogni singolo webinar se avete domande potete mandare una mail a europedirect.com approcciola.formez.it e in più vi ricordiamo che sempre diciamo nella nostra intenzione di dedicare dell'attenzione a quelli che sono i problemi dell'Europa per la salute nel periodo che andrà da ottobre a dicembre del prossimo anno organizzeremo un nuovo ciclo di webinar dove invece l'attenzione sarà sull'invecchiamento attivo come prevenire l'invecchiamento visto che l'età media delle persone si allunga sempre di più ed è importante anche per tagliare sulla spesa sanitaria avere diciamo delle persone che arrivino in un vecchiaia sempre più sane e quindi con con meno tra virgolette meno acciacchi io ho finito con la mia presentazione volevo ringraziare tutti gli Europe Direct aderenti all'iniziativa ma anche tutti i partner di questo ciclo di lezioni così come i relatori di oggi e vi aspetto il 15 febbraio perché parleremo nuovamente di Mission Cancer grazie Carmela ti ridò la parola intanto spero che siano stati risolti i problemi col dottore Pasquale Verolino che saluto grazie grazie Claudia allora l'invito a scendere è inforcare una bici e andare unista alla manifestazione in bici in rosa il 7 di aprile come diceva Claudia l'impegno prosegue nella direzione della tutela della salute con i doppi appuntamenti che sono stati proposti dalla dottoressa Salvi a questo punto passo la parola al dottor Pasquale Verolino per il suo intervento prego dottore le la parola spero che adesso si sente molto bene assolutamente si sente? e la vediamo anche nel quadro perfetto allora prego allora come dicevo prima già la presentazione precedente del professor Altomare ha spiegato molto bene l'importanza delle breast unit che dal 2016 hanno rappresentato una svolta nel trattamento del tumore della mammella soprattutto perché c'è stato un cambiamento nell'approccio cioè un approccio multidisciplinare che prevede le figure molto importanti dell'oncologo del chirurgo senologo e del chirurgo plastico io sottolineo molto la presenza di questa figura perché ovviamente come ha fatto già vedere il professor Altomare il chirurgo senologo cioè colui che demolisce che effettua il trattamento demolitivo è fondamentale poiché senza una corretta e adeguata demolizione non è possibile poi approcciare ad una corretta ricostruzione però poi è importante l'intervento appunto del chirurgo plastico ricostruttivo per dare quel qui di in più in termini estetici quindi di ripresa anche psicologica della paziente fortemente provata dall'esperienza del tumore al seno ed è per questo molto importante come diceva appunto il professore Altomare un incontro quindi dei meeting settimanali in cui le varie figure si incontrano discutono dei casi e si fa la migliore pianificazione della demolizione prima e della ricostruzione poi che è strettamente ovviamente correlata quindi tutte le figure che vanno dal radiologo all'oncologo al senologo ma anche l'anatomo patologo e poi il chirurgo plastico che è quello che diciamo la figura che completa la ricostruzione che si può spesso realizzare in un tempo unico ma anche può richiedere dei tempi successivi e quindi più interventi nel tempo diciamo che la strategia ricostruttiva dipende ovviamente dal nostro punto di vista cioè da quello del chirurgo plastico ricostruttivo dal tipo di difetto che noi ci troviamo a trattare dalle condizioni generali della paziente dalle caratteristiche anche della mammella controlaterale ormai è un dato sempre più frequente quello di dover trattare dover adeguare la mammella controlaterale non ha senso fare un'ottima ricostruzione di una mammella malata lasciando poi la mammella controlaterale nelle condizioni in cui è e quindi come minimo mantenendo una marcata asimmetria tra le due mammelle poi bisogna valutare comunque anche le terapie successive che in base al tipo di tumore dovranno essere appunto affrontate in particolare la radioterapia che può costituire un problema per molti diciamo approcci ricostruttivi e poi bisogna valutare la disponibilità di tessuti autologici sono stati mostrati dei lembi locali dei lembi prevalentemente di vicinanza quindi dalla parete toracica ma molto spesso è possibile utilizzare i tessuti autologhi quindi della stessa paziente anche sfruttando dei lembi a distanza peduncolati o addirittura dei lembi liberi che appunto con tecnica mitochirurgica possono essere adattati per la ricostruzione mammaria molto importante però dato alla sempre maggiore conservazione del tessuto mammario l'utilizzo di presidi protesici e quindi che consentono non solo di risparmiare l'eventuale sito donatore ma anche di effettuare ricostruzioni più immediate e più veloci i presidi protesici diciamo si intendono non solo le protesi in gel di silicone e gli espansori che spesso precedono l'impianto protesico ma anche le moderne matrici acellulari o sintetiche per quanto riguarda invece i tessuti autologhi abbiamo parlato di lembi che possono essere liberi o peduncolati e molto importante soprattutto negli ultimi anni l'utilizzo del grasso autologo cioè dell'ipofilling che è stato menzionato anche nella precedente diciamo presentazione il grasso autologo rappresenta una innovazione importante perché non solo ci consente una ricostruzione o comunque una come dire un'arma in più per migliorare l'estetica della mammella ma consente anche di migliorare appunto un sito donatore che può essere l'addome i fianchi le culotte della paziente quindi in un ambito di miglioramento globale estetico della paziente il professor d'altomare prima diceva molto spesso le pazienti escono da questa esperienza così negativa con un seno e io direi anche con un corpo alcune volte migliorato dagli interventi ricostruttivi che noi effettuiamo per quanto riguarda le protesi in gel di silicone noi abbiamo due tipi diciamo due forme principali le protesi rotonde o semisferiche e le protesi anatomiche o a goccia e poi abbiamo la superficie delle protesi che può essere testurizzata cioè con delle micro rilievi sulla superficie o liscia diciamo che la scelta tra le protesi tonde anatomiche viene generalmente fatta dal chirurgo sulla base appunto del tipo di intervento da effettuare e sul tipo anche di risultato che eventualmente si può concordare con la pazienza tenendo sempre ben presente anche la mammella controlaterale e per quanto riguarda sicuramente le protesi anatomiche potrebbero dare un risultato più naturale più armonioso in alcuni casi ma in altri casi la differenza di forma potrebbe essere azzerata per esempio dalla tecnica chirurgica dall'utilizzo per esempio del muscolo pettorale se appunto la protesi viene posizionata in dual plane cioè sotto il muscolo pettorale queste differenze potrebbero essere anche annullate di contro le protesi a goccia o anatomica possono avere un piccolo problema legato alla possibile rotazione e quindi ad una deformazione eventuale piccola o grande della mammella dove questa deformazione avviene quindi la valutazione e la decisione sia utilizzare l'una o l'altra protesi deve essere ben ponderata dal chirurgo plastico spiegando bene alla paziente i vantaggi e svantaggi delle tecniche molto importante sottolineare questo lo facciamo anche nella pratica estetica vera e propria che le protesi in gel di silicone hanno una durata limitata nel tempo quindi purtroppo le pazienti devono sapere che diciamo dopo dieci anni mediamente a volte anche un po' di più se non ci sono problemi ma comunque dopo dieci anni le protesi vanno sostituite e quindi non bisogna dire alle pazienti che l'impianto è definitivo quindi bisogna valutare molto anche questo aspetto anche nella scelta tra una ricostruzione con tessuto autologo o con protesi appunto per quanto riguarda la superficie è un elemento una scelta ancora più tecnica dato che le protesi testurizzate o in particolare micro testurizzate rispetto a quelle lisce hanno una differente diciamo così probabilità di dare contrattura capsulare e in alcuni casi vengono preferite alle protesi lisce anche se c'è una questione che poi riguarda una questione più oncologica diciamo che riguarda la insorgenza di una patologia correlata all'impianto protesico che sembrerebbe più correlata alle protesi diciamo testurizzate che è linfoma celluliana plastico ma in ogni caso con le micro testurizzate che rappresentano oggi un compromesso tra le testurizzate di un tempo e le lisce è stato anche superato questo problema quindi diciamo che la gran parte delle protesi oggi utilizzate sono protesi micro testurizzate che conigano quindi una quasi totale mancanza di rischio per il linfoma celluliana plastico e comunque una ottima risposta in termini di riduzione del rischio di contrattura capsulare per quanto riguarda la ricostruzione protesica come dicevamo prima può essere una ricostruzione immediata o una ricostruzione differita la ricostruzione differita significa che dopo la demolizione effettuata dal chirurgo senologo viene impiantato un espansore cioè un dispositivo in silicone che viene gonfiato progressivamente da prima poco in modo da evitare un'eccessiva tensione sui tessuti già fortemente provati dalla dissezione dalla rimozione cutanea eccetera e poi eseguire questo riempimento dell'espansore fino al volume desiderato consentendo quindi un aumento della pelle e quindi un recupero della quantità di pelle di cute rimossa dalla demolizione il corso della demolizione questo riempimento con soluzione fisiologica ambulatoriale viene effettuato con cadenza mensile ogni 15 giorni dipende comunque dai casi a seconda appunto della risposta dei tessuti e consente dopo 3-6 mesi a seconda dei casi un ripristino anche completo della diciamo del difetto cutaneo consentendo poi successivamente un impianto dell'aprozzi definitiva per quanto riguarda invece la ricostruzione immediata che molti diciamo praticano con forse eccessiva come dire eccessivo numero dato che ricostruzione immediata significa posizionare da subito una protesi in pre-pettorale cioè davanti al muscolo pettorale e questo sarebbe sicuramente un vantaggio perché risparmia appunto il muscolo pettorale e risparmia anche una seconda procedura chirurgica nonché l'espansione cutanea tuttavia è inevitabile che non solo il rischio è maggiore di deiescenza e quindi di perdita dell'impianto dato che molto spesso i tessuti sono diciamo danneggiati o comunque stressati dalla dissezione dalle eventuali terapie adiuvanti effettuate precedentemente ma soprattutto c'è un problema anche legato alla simmetrizzazione eventuale della mammella controlaterale che non può essere sicuramente la migliore possibile dato che c'è necessità di un assestamento della mammella operata e poi di una simmetrizzazione successivamente della controlaterale comunque questo è un tema molto dibattuto c'è chi propende più per la immediata chi per la differita io personalmente pratico entrambe valutando caso per caso appunto con i colleghi con delle altre specialità valutando cose meglio per la paziente di volta in volta per quanto riguarda le matrici esistono vari tipi di matrici abbiamo detto matrici sintetiche e matrici non sintetiche io utilizzo molto questa matrice che è per una questione di comfort diciamo tecnico da parte del chirurgo e per una migliore biocompatibilità da degli ottimi risultati è una specie di involucro all'interno del quale viene inserita viene messa la protesi e praticamente questo ci consente nella ricostruzione immediata pre-pettorale di guadagnare un certo spessore dei tessuti riducendo anche il decubito della protesi sulle cicatrici e migliorando di molto la qualità del risultato nonché la sicurezza e la possibilità quindi di avere un risultato immediato soprattutto quando non c'è necessità di un adeguamento della mammella controlaterale o quando comunque questa non viene richiesta perché c'è anche da valutare il caso in cui i pazienti magari più anziani o comunque che non hanno voglia di toccare la mammella controlaterale non richiedono l'adeguamento della mammella controlaterale quindi in questi casi quando possibile la ricostruzione immediata può essere un ottimo strumento queste sono le varie fasi della preparazione della matrice la protesi come si vede viene praticamente inserita e poi viene suturata appunto questo shell questa specie di conchiglia nel quale viene inserita la protesi e poi viene preparata appunto la tasca inserita e successivamente suturata in questo modo noi abbiamo una ricostruzione completa in un tempo unico e lo stesso giorno appunto dell'intervento demolitivo per quanto riguarda quella differita abbiamo parlato di posizionamento dell'espansore questo espansore come si vede ha una valvola viene riempito nei mesi successivi e appena possibile viene sostituito con una protesi definitiva in gel di silicone definitiva tra virgolette dato che come abbiamo detto le aziende quindi non i chirurghi né i radiologi affermano che diciamo la durata ottimale di un impianto protesico è 10 anni poi ovviamente è possibile protrarre questa cosa per qualche anno ma è consigliabile comunque sostituirla per quanto riguarda invece il tessuto autologo uno di quelli più diciamo uno degli interventi più richiesti o comunque graditi ai chirurghi plastici è quello con l'embo addominale che può essere peduncolato ma diciamo che oggi viene utilizzato meno chiamato tram che utilizza appunto una paletta cutanea regione sotto umbilicale che viene trasferita trasposta diciamo nella regione mammaria oggi rispettando molto di più il muscolo retto addominale rispetto alle prime tecniche ma comunque è un intervento un pochettino più come dire demolitivo sulla parete per la parete addominale e poi il lembo diep che invece è un lembo che utilizza solo cute e sottocute che consiste appunto nel trasferire la cute dell'addome inferiore con dei vasi perforanti che poi vengono nastomizzati sui vasi diciamo della regione mammaria della diciamo della mammaria interna o alcuni vasi della teratora codorsale a seconda della tecnica che si preferisce con una ricostruzione non solo ottimale dei tessuti molli con il proprio tessuto ma con anche a volte un ottimo miglioramento della estetica addominale di questi pazienti con una cicatrice residua sovrapubblica che somiglia a quella del taglio cesario solo leggermente più lunga ovviamente la ricostruzione con tessuto autologo è una ricostruzione diciamo che da un punto di vista dei tessuti per la mancanza della protesi e quindi di un corpo estraneo è molto gradita ad alcuni pazienti però non bisogna dimenticare che anche in mani esperte questo è un intervento che dura 4-5 ore a fronte di 30 minuti 40 minuti per l'impianto di una protesi e gravato da rischi di insuccesso maggiori poiché appunto le anastomosi microchirurgiche e tutto quello che ne consegue in termini tecnici è ovviamente più complesso quindi c'è la possibilità maggiore di un insuccesso numericamente soprattutto su grandi numeri rispetto all'impianto protesico quando possibile per quanto riguarda diciamo una strategia intermedia è quella di utilizzare il muscolo grandorsale molto più semplice da diciamo da allestire questo lembo è un lembo che può essere peduncolato e proviene quindi dall'area dorsale e può essere migliorato farcito anche con il grasso quindi con il proprio grasso o in alcuni casi può essere impiantata una protesi al di sotto del lembo miocutaneo di muscolo grandorsale per quanto riguarda l'ipofilling esistono tante tecniche e tanti strumenti che possono consentire appunto il migliore prelievo di questo grasso la cosa importante è che il grasso sia conservato e sia prelevato e impiantato in modo più diciamo delicato possibile perché le cellule di grasso vanno salvaguardate e soprattutto vanno eliminate tutte le componenti che non sono utili quindi componenti intercellulari liquidi eccetera attraverso vari sistemi uno di questi è quello che mostro in questa figura che è una specie di diciamo contenitore con all'interno un filtro che viene praticamente che separa i liquidi dal tessuto adiposo e poi praticamente con delle siringhe questo grasso come si può vedere qui viene estratto viene fatto diciamo anche un pochino decantare cioè viene eliminato la componente residua di liquido e praticamente viene poi impiantato nel sito diciamo ricevente che è appunto la mammella ricostruita questi sono dei casi di demolizione e ricostruzione immediata in questo caso poi la ricostruzione del complesso aureola capezzolo generalmente viene eseguita successivamente in alcuni casi con un tatuaggio per quanto riguarda l'areola e che è la tecnica poi che dà solitamente migliori risultati e la ricostruzione del capezzolo può essere realizzata o con un lembo locale o oggi esistono anche delle protesi in silicone impiantate sotto cute che possono diciamo simulare il capezzolo alcune pazienti le accettano le tolgerono altre meno perché è comunque un dispositivo rigido sotto cutaneo che in alcune posizioni può creare qualche problema in questo caso è stata realizzata una mastopessi con impianto protesico per effettuare un adeguamento anche della mammella controlaterale questo è un altro caso sempre di ricostruzione immediata con adeguamento della mammella controlaterale e impianto protesico con una matrice a cellulare come mostrato precedentemente molto importante questo è un aspetto a cui il chirurgo plastico tiene moltissimo quello della cicatrizzazione ovviamente questi sono tutti interventi gravati da cicatrici abbastanza estese ed evidenti per cui è molto importante anche seguire le pazienti nei mesi successivi con dei consigli con dei prodotti con delle creme che migliorino più possibile la cicatrizzazione un bel seno con delle brutte cicatrici è comunque un risultato scadente per quanto riguarda quindi è importante non solo una corretta medicazione follow up delle pazienti nelle prime settimane dopo l'intervento oggi esistono anche delle medicazioni a pressione negativa che noi utilizziamo in sala operatoria a fine intervento per consentire la rimozione delle secrezioni e quindi consentire la più rapida e migliore cicatrizzazione ma anche per attraverso la pressione negativa stimolare la vascolarizzazione e quindi avere delle ferite diciamo molto sottili morbide e di buona qualità esistono poi ovviamente nei casi di cattiva guarigione o di guarigione per seconda intenzione tutta una serie di procedure medicazioni avanzate sistemi di debridement che vanno messi in campo immediatamente per evitare che ovviamente i tessuti necrotici o altro possano poi determinare non solo un problema riguardo la protesi ma anche poi una cattiva cicatrizzazione nel tempo diciamo che il futuro già siamo nel futuro nel senso che l'approccio multidisciplinare e come si diceva prima il controllo di qualità sulle breast unit sono già un elemento di svolta nel trattamento del tumore della mammella io sottolineo tendo a sottolineare moltissimo l'importanza della figura del chirurgo plastico dato che l'aspetto psicologico oggi è sempre più importante e lo si vede anche dai numeri della chirurgia estetica ormai tutte le persone sono estremamente attente all'estetica pensare di curare una persona non tenendo conto di quello che è poi il danno estetico che questo produce sarebbe estremamente sbagliato e assolutamente insoddisfacente per la paziente quindi sempre più breast unit certificate con grandi numeri come si diceva prima quindi specialisti con casistiche e esperienze importanti e sempre più multidisciplinarità discussione dei casi prima di affrontarli per mettere in campo le migliori strategie possibili tutto questo ovviamente nell'interesse dei pazienti e per risparmiare anche più possibili risorse del servizio sanitario nazionale quando possibile una ricostruzione immediata ci consente di risparmiare un intervento ma se si effettua una ricostruzione immediata quando non c'è l'indicazione questo significa una deiescenza una sostituzione della protesi non solo un secondo intervento ma anche a volte più interventi per sanare i danni di questa procedura errata quindi se ci sono domande possiamo rispondere al momento nella chat dottore non leggo domande ma volevo ringraziarla per il suo intervento e insomma mi sono resa conto ascoltando la sua rappresentazione e quella del del professor Artomare quanto l'attenzione verso la salute della donna sia veramente molto molto forte all'interno delle best unit e quando lei alla fine ha detto ridurre anche la sofferenza per i pazienti secondo me è una cosa importantissima e le tecniche che ci ha proposto sono veramente sono veramente innovative leggevo anche di altre situazioni per cui viene prelevato il gesto addominale per poter ricostruire situazioni insomma di danno e mi ha anche fatto insomma pensare il fatto che lei abbia detto ok però c'è la possibilità di fare gli interventi ricostruttivi immediati o anche dopo ma l'attenzione deve essere molto forte perché magari farlo immediatamente vuol dire avere altri problemi dopo e quindi tutta l'equip che si riunisce e ragiona programma per fare in modo che non ci siano poi problemi nei tempi successivi esatto poi è molto importante anche che la paziente e la paziente abbia consapevolezza del danno estetico che inevitabilmente ha subito quindi a volte una riposizione di ferita può dare maggiore soddisfazione alla paziente che si rende conto del problema appunto della mastectomia delle cicatrici e tutto e quant'altro per poi vedersi ricostruita ottimamente a distanza di tempo parte che penso che si veda anche no che magari si è spostata la protesi le protesi diciamo difficili la tasca viene confezionata sulla base della protesi che bisogna ovviamente impiantare quindi non ci sono dei veri e propri spostamenti ma ci può essere una rotazione questa rotazione se riguarda una protesi tonda ovviamente non costituisce questo problema se riguarda una protesi anatomica pur essere diciamo un problema dato che si crea una deformità della mammella quindi non ci sono dei sintomi ma visivamente si nota appunto una distorsione della forma della mammella lei prima parlava anche di aureole bisogna intervenire se diciamo l'inestetismo che si crea è molto rilevante se la paziente lo richiede ma non è una necessità può essere un problema maggiore ovviamente l'areola o magari si preferisce sulla base della sua esperienza chiaramente magari le donne preferiscono il tatuaggio allora il tatuaggio sicuramente per l'areola è la cosa migliore per quanto riguarda il capezzolo come dicevo il lembo locale a mio avviso è ancora la soluzione migliore perché queste protesi sebbene esteticamente possono a volte essere molto simili al capezzolo diciamo naturale danno qualche fastidio in più dato che sono delle placche rigide che soprattutto in situazioni di decubito eccetera possono creare un fastidio però diciamo sono cose abbastanza nuove innovative che si stanno utilizzando da poco quindi si vedrà poi come migliorare anche questi aspetti domande non ce ne sono invito tutti quanti i relatori eventualmente a riattivare le webcam per i saluti finali ci siamo ci siamo ci siamo tutti io prima di c'è Claudia arrivo eccoci qua allora siamo arrivati alla fine di questo di questo webinar e io volevo veramente ringraziare tutti quanti tutti quanti voi che stamattina siete stati con noi in questo webinar conclusivo ringrazio anche tutti i relatori dei precedenti webinar e ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito questa mattina ringrazio e saluto con affetto gli altri di Europe Direct con organizzatori che ho menzionato in apertura ringrazio alla collega dello Europe Direct Molise Antonella Fiorella che mi ha supportato ringrazio Claudia per aver anticipato il nostro futuro i nostri due futuri cicli di eventi a cui invito tutti i presenti ad iscriversi e partecipare e non mi resta che augurare a tutti quanti un buon proseguimento di giornata grazie ancora a tutti sì io voglio approfittarne innanzitutto per ringraziare Carmela ma volevo anche ringraziare tutto lo staff dello Europe Direct Roma Innovazione che ha fatto in modo che questa piattaforma funziona perché non è sempre molto agevole anzi vi annuncio che per le prossime i prossimi webinar cambieremo piattaforma e ne useremo una un pochino più user friendly quindi da evitare alcuni voglio dire anche i ringraziamenti dello staff sono stati molto cortesi molto carini molto accoglienti e hanno risolto i problemi scusami grazie a tutti e un caro saluto a tutti gli Europe Direct e a tutti i rollitori buona giornata grazie mille arrivederci così non so se devi fare una valutazione arrivederci grazie